Siamo nella splendida cornice del parco di Villa Montesca con Elen Binet, fotografa d'architettura di fama internazionale che ha collaborato con i più grandi architetti contemporanei. Elen è giunta qui a Città di Castello dall'Inghilterra per realizzare uno shooting fotografico di Villa Montesca che farà parte di un libro sulle principali residenze ebraiche d'Europa che conterrà saggi e foto e che diventerà poi una mostra fotografica itinerante che partirà dall'Inghilterra per passare in Italia, in Francia ed approdare negli Stati Uniti d'America. Allora Elen, ci racconti un po' come è stato per lei fotografare Villa Montesca, immortalare queste stanze, questi luoghi che un tempo, ricordiamolo, sono appartenuti ai baroni Alice e Leopoldo Franchetti che proprio qui all'inizio dell'Ottocento fondarono la prima scuola rurale per i figli dei loro mezzadri e dove Maria Montessori gettò le basi di quello che poi diventerà il suo famoso metodo della pedagogia scientifica. Per me è stato molto emozionante arrivare qui in questo periodo e potermi dedicare a questa villa in un contesto così bello, con un giardino così fantastico e trovare in quest'isola di pace e di pensieri e di energia positiva perché si sente ancora nella villa che questa è stata fatta e poi per poter raccogliere i pensieri e l'energia per fare delle cose che hanno riguardo con la nostra società, hanno riguardo col benessere dei bambini, delle donne e questo si sente perché non c'è quella lussuria che pensa solo a volere ricevere, a volere imporre il potere rispetto ad altri, ma si sente nel fatto che sono delle stanze discrete. Mi hanno commosso molto questi spazi che sono dei spazi di studi, dei spazi di ricerca, dei spazi dove anche pensi che questa coppia meravigliosa si è incontrata, ha discusso dei loro progetti, progetti che andavano dalla vita in Sicilia fino alla vita delle persone che vivevano e lavoravano attorno a loro e questo si risente nell'intimità dei spazi, nelle loro decorazioni e nel fatto che soprattutto sono spazi intimi. La villa è grande, è una villa meravigliosa, dunque fotograficamente è un grande impegno, ma io mi sono trattenuta a lavorare soprattutto sul dettaglio, sul dettaglio per pensare proprio ai momenti che erano forse di questa coppia quando guardavano il soffitto, quando guardavano da una finestra, per rientrare un pochino in questi pensieri che li hanno portati a essere così dedicati all'altrui, che non è una cosa molto comune. C'è stata una stanza in particolare che ti ha suscitato un'emozione diversa rispetto ad altre? C'è il piccolo studio del barone che è decorato in un modo con tanta fantasia, pieno di allegorie, che ha a che fare con la vita in campagna, con la vita dei bambini, ci sono degli animali, è molta libertà in queste decorazioni che si vedono, che danno idea come il loro spirito era libero, venivano da una tradizione però non ne hanno accolta anche un'altra, hanno accolto il pensiero della Montessori, che era una concezione dell'educazione completamente nuova. Dunque questa libertà di pensiero si sente anche il modo in cui hanno decorato la villa, che non aveva niente di stabilito.